Buonasera a tutti e a tutte, carissime e carissimi, vi ricordo che il corso Anitella Codice Sofia 10.960 Progettare compiti autentici di realtà in didattica FLIP e DEAS, episodio di apprendimento situati, si conclude il 5 marzo 2018 alle ore 23.50. Dopo tale data ed ora non sarà più possibile effettuare nessuna consegna e scaricare i materiali del corso. Spero che abbiate completato tutte le attività previste, il glossario due voce almeno, partecipazione a otto forum, uno per modulo, consegna di sette compiti previsti, l'elaborazione del project work nel modulo 8 con scheda di riflessione metacognitiva. I crediti massimi da ottenere sono 800, attestato e badge si ottengono al raggiungimento di 400 crediti su 800. Vi ringrazio moltissimo per la partecipazione, sempre attenta alle nuove proposte, per i prodotti che avete messo a disposizione nel corso e per le discussioni competenti nei forum. Volevo riassumere brevemente i principi catalizzatori di ciascun modulo. Per il modulo 1 il principio della contaminazione, per il modulo 2 il principio della complessità, della semplicità e del problem solving, per il modulo 3 il principio della risoluzione, per il modulo 4 il principio dell'elaborazione e del supporto, per il modulo 5 il principio delle competenze, per il modulo 6 il principio della condivisione, per il modulo 7 il principio della valutazione autentica, per il modulo 8 il principio della conservazione e di dimostrazione. Un saluto particolare a tutti voi e ciao!